Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Pocket Edition Ci troviamo in non mi ricordo quale episodio di E-Island E guardate se salvo cosa succede Comunque, in molti di voi si saranno chiesti come ho fatto a scendere C'era questa cosa qua, tipo un passaggio sotterraneo che entravi in questa stanza qua Non mi sono mosso, infatti sono di nuovo qua Cioè non ho fatto niente, lì che ho solamente raccatato un po' di materiali e li ho depositati nella cesta alla base Non sono andato avanti Oggi dobbiamo scendere qui sotto e sento davvero tanti rumori Allora, prima di tutto direi levare quel blocco di legno lì che magari mi dà solo fastidio Raga mi sa che devo picchiare i pigwe Mi sa che devo picchiare raga Eh sì, non ci potevo niente Oh cazzo lì Buddha, cos'è? Oh no 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 no, aspetta un attimo, aspetta un attimo No qua c'è un piccolo problema Cos'è? C'è un piccolo problema di fondo Io non riesco a colpire i mob, talmente sono tanti Però è buono perché si stanno anche ammazzando un po' da soli Ok allora chiudiamoci No, i silverfish no, non i silverfish Non i silverfish, cioè talmente sono tanti che li sto picchiando No, oh, tre cuori, quattro cuori, quattro cuori, quattro cuori Basta, 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 basta Veloce, chiuditi, 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 chiuditi No, 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 no Porca cagna, porca cagna, porca cagna Chiuditi Sono morto Ciao, 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 ciao Ecco, a posto Benissimo, ritorniamo al punto in cui siamo morti ovviamente Raga ma da quando uno spacca un blocco di legno e non gli droppa il materiale? No, scusate, da quando? Che cazzo sta succedendo? Cioè io spacco il blocco in legno e non mi droppa il materiale? Ma da quando? Si, si possono rompere i blocco in legno con la... E io come cazzo risalvo, ma porca di quella troia Ora me l'ha droppato Ma che cazzo di ragionamento è? Guarda, me l'ha droppato mo Me l'ha droppato E poi c'è sto pigman Non so che cazzo succede in sto cazzo di gioco Ma baffanculo, fammi salire Fammi salire sopra, madonna santa Cari giuluri, do stronze Non ti ho picchiato, guai a te Quando ci scommettete che succede come nell'isola Eh sì, ora non si vede Nell'isola quella... De che siamo andati nello scorso episodio Che mi si... Oh, ma sti rani da dove arrivano? Da dove arrivano? Che stavo dicendo? Che mi si respawna la roba? No, ci dovrebbe essere tutto Non c'è un cut, no Cioè, c'è più o meno, diciamo Però mi fanno il culo Mi fanno troppo il culo No, no, ma son morto di nuovo Ma perché mi fate questo? Perché mi fate questo? Abbiamo una spada? Abbiamo un 64 diamanti? Usiamoli Io mi crafto una nuova bella armatura Magari mi crafto solamente questi pezzi qua Evitiamo... Ma che... Sai che cazzo me ne frega? Ma sai che cazzo me ne frega? Io mi crafto pure la chestplate Eh? Sai che ti dico? Io mi crafto pure la chestplate Tanto siamo pieni di diamanti Quindi non abbiamo problemi Inoltre mi prendo pure dei blocchi Da costruzione E un paio di zuppette così Siamo carichi! Sai che ti dico? Io brucio tutti i materiali Perché mi sono preso un'accendina apposta No! È vero i pigmen Si era resettato il coso Ma non mi picchiavano più nel senso Oh! Devi lasciarmi stare Ho una spada in ferro E non ho paura di usarla Silverfish infami di merda Fai un piccolo muro qua Ok Siamo abbastanza chiudi Io mi abbrucio tutto Io mi abbrucio tutto Signori E signori Mi serve anche l'accetta No! No caro mio Io da qua non ti faccio passare Però devo spaccarmi sto blocco qua Perché mi serve Sia del legno Poi Cioè tutti i materiali Io me li devo riprendere Ok? Ora c'ho un'armatura in diamante Però Comunque Io i picconi e tutto Cioè ce li devo avere Quindi Evitiamo di farci ammazzare E di recuperare tutti i materiali Non ho un'idea Dato che non riesco a Ce l'ho il picco Ce l'ho il piccolo in diamante Madonna Ma allora che cazzo Mene sinceramente Ma allora t'ammazzo Ma allora t'ammazzo Pure a picconate Ti ammazzo Ma come facevano I uomini sapiens sapiens A picconate Ti prendo Che poi in realtà Non è vero Perché se lo potessero Creare una cazzottissima spada Però Io sto anche rischiando Un po' troppo Stando qua eh In tempi ecclisi In cui non si possono fare le torce Usa il fuoco E fidati che vedere di più Spot publicitari proprio No sense Allora Ho spaccato un paio di spawner E poi ho ammazzato pure Degli scheletri Che mi stavano Parecchio rompendo le palle A quanto pare Non mi sembra che ci siano Uh c'è un picciniacolo Ciao stronzo di merda Ho piccato il pigman Ops Cioè non capisco il pigman Con quale criterio Uh qua c'è un altro Decidono di non picchiarti più Cioè ho capito che Quando Non li picchi Oppure li picchi in parte Oh no sto per bruciare il cappellino Quando li picchi in parte Poi non ti devono più Però c'è Io ne ho picchiato uno Dopo 20 secondi Non mi vogliono già più fare niente Quindi Non lo so bene Come ragionano sti maiali Perciò Io li ammazzo Uh La TNT Mi potrebbe essere utile Sì Sì Mi potrebbe essere utile Sì Quindi direi di prenderla Comunque Direi di prenderla Ah cazzo Perché non posso Cacchio che palle Buttiamo via sta zuppettina qua Che ti occupano Solo l'inventario Stavo dicendo Ora però L'obiettivo sarà quello Di trovare La stanza Dato che qua sta facendo Bruciare Uh Eccola qua raga Finchia Meglio così L'abbiamo trovato subito Allora Direi di fare una cosa Sensata Io piazzo un paio di TNT Sai che ti dico Porca troia Quanto sono un coglione Lo shift Lo shift Dovrebbe esplodere tutto no Perché non esplode niente Perché non è Perché non è esploso niente Scusa Io ho buttato la TNT Dovrebbe esplodere no Ah ecco Ok Sono morto È morto qualcuno Non lo so raga Minchia quanto è bello Usare la TNT raga Vi giuro che mi prende troppo bene Spacchiamo No No Porca cagna Porca cagna Porca cagna Porca cagna Ok Un attimo Un attimo di Di controllo Allora Io voglio Non c'è più nessuno vero Non c'è più nessuno vero Non c'è più nessuno Non c'è più nessuno Dai Minchia quanta esperienza Quanta esperienza Ma cos'è questa esperienza Scusa Cos'è Comunque qua c'è un po' troppa gente Per i miei gusti Sì 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 C'è troppa gente C'è troppa gente Però io dopo foco tutto Dato che sono Un bel po' Acab Allora Ma Chi cazzo volete voi Brutte merda Che vi ammazzo pure a voi Allora TNT ci ha Favorito Boh potremmo dire di sì Perché comunque non Non è che ci ha Cioè sì Ci ho ammazzato un paio di mob Quindi diciamo che è stata abbastanza utile Prenderla Poi Sti ragni qua Io li ammazzo Dato che sono pure glitchati Qui i mob sono intrappolati E io ammazzo pure i pigmen E io ammazzo pure i pigmen Perché sinceramente Non c'ho paura di loro Morite Grazie Diamo foco un po' Alla librerie Tanto Per fare bordello Ehi Ciao amico Ciao amico Ciao amico Io ti ammazzo Io ti ammazzo Ciao amico C'è anche sto ragno Che di Uuu Come se avessimo Il fire aspect Allora sto dicendo tante cose Però io sto pure morendo No 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 raga No raga raga No no raga 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 no È il modo più sicuro Di chiudersi Usando la TNT Cioè dai Chi non usa la TNT Per chiudersi Quando non hai cuori È un coglione Ammettiamolo dai Ora recuperiamo un attimo la vita E cerchiamo di disintegrare Tutti gli spawn Ho trovato l'ultima Mi sa l'ultima entrata Non lo so No è fatta di ossidiana questa Scusa Io qua come Cosa dovrei fare Oh Sto prendendo danno raga Da cosa sto Oh Sto prendendo danno Ma se non ci sono Guarda Io passo da qua Guarda In questo punto qua Esattamente qui Se io passo qui Prendo danno Guarda Vedi Guarda la vita Guarda la vita Ma perché Non capisco Non so se è qualche babbo Cosa Oddio Oddio Quanti mob ci sono lì Quanti mob ci sono No pochi E non so Proviamo a Vabbè A parte prendere danno Proviamo a spaccare un po' Di ossidiana qui Vediamo cosa succede Uno spawner di silverfish Quindi possiamo anche entrare E spaccarlo Però Non è che Devo spaccarlo Essere Essere raga No 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 raga No raga Che cazzo è No raga Piano 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 Tutti sti silverfish Me li spieghi Tutti sti silverfish Che tutti Sai cosa sarebbe figo Piazzare una bella TNT E farli saltare tutti in aria Però essendo sotto Non posso Posso farlo Posso farlo Posso farlo Mi serve solo Posso farlo Posso farlo Sai che ti dico Vaffanculo Vaffanculo E ne piazzo pure un'altra Vaffanculo Silverfish di merda E mo Cosa volete fare Eh stronzi Ragazzi Poi è una brutta situazione Voi non sapete Vero No perché non ve l'ho fatto vedere Non avete neanche la minima idea Anzi Pensiamo a una torta lì Così almeno abbiamo il cibo Portato di mano veloce Guardate Quanti scheletri Vi dico Gli scheletri Ci sono che mi stanno per sparare Guardate quanti Tutti a mirarmi Lì Lì Sono tantissimi E in più ci sono pure Eh si ma Gli zombie No no raga Sti zombie da dove arrivano Scusa Allora Qui sono troppi silverfish Per i miei gusti Davvero tanti Quindi Ehi Ehi Poi questi stronzi Possono passare in qualsiasi buco Quindi Quindi è impossibile regolare Allora Dobbiamo spaccare gli spawner Il più presto possibile Spacca gli spawner Qua mi serviva Alta TNT Raga La TNT serve a tutto Non la devo usare per fare i ponti La TNT non la devo usare per fare i ponti Porca puttana Quanti silverfish Stanno arrivando raga No Sono troppi Non riesco a Non riesco a prendere i blocchi Oh Non riesco Ma porca troia Non riesco Oh raga no Vi giuro Non ce la faccio Sono troppi 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 cazzo No è vero No è vero c'ha ragione Se mob Infocato Ti infocano pure a te Quando ti colpisce Però Dato che io sono full diamond Non mi fanno troppo danno Dai i ragazzi Sto spaccando tutti Gli spawner Vai uno via Un altro via Un altro Dai 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 Che li sto ammazzando bene tutti Inoltre Stiamo anche recuperando Abbastanza la vita Cioè C'ho poche cosciotte Però comunque Stiamo andando abbastanza bene Qui intanto i silverfish Continuano a spawnare Che cazzo è Una minchia La mandria Quanti mob Eh se Non so neanche cosa ho detto Quanti mob spawner ci sono Raga Sono tantissimi Guardate Guardate i livelli Sono morti quanto 20 minuti 6 minuti fa Spammi Spaccare sto porco Dinci di blocco Stronzo di merda Guarda Quanto li odio Quanto li odio Non riesco Non riesco a giocare Te lo giuro O non riesco a muovermi Non so se questo qua È l'ultimo piano L'ultimo livello Non so come cazzo chiamarlo Perché sti stronzi qua Non mi fanno neanche pensare Io se spacco sto No ok Se lo rompo Non fanno nient'altro Madonna santa Fammelo spaccare Tu Oddio Chi è che l'ha ucciso Quel Quel cazzo di silverfish Inoltre Qui arrivano gli zomi Sì Come se fossero i mandri Inoltre Però è abbastanza comodo Il fatto che è sciotto I silverfish Anche con una spagna di amante Non incantata Perché Se non mi ricordo male Ne servivano due Proprio Di numero di colpi Per ammazzarlo Ultimi due mob spawner Penso di sì Non ne sono sicuro Però penso di sì Inoltre Qui stanno continuando A spawnare mob A manetta Proprio Guardate la spagna di amante Sta calando un sacco Di utilizzi Talmente la Sto usando Inoltre È abbastanza comodo Il fatto di avere Un piccone in diamante Per affrontare L'ossidiana Perché Comunque In poche delizioni Lo spacca abbastanza veloce L'ossidiana Il piccone Perciò È comoda Come cosa Inoltre Guardate i silverfish Che spawnano Madonna Sono tantissimi Allora Spacchiamo pure sto mob spawner Di pigman Qui altri pigman Quanti ce ne sono Non so perché Non mi ha laggato il giotto Perché c'era una quantità assurda Di sé di mob spawner Ma che di mob In sé In generale Allora Con calma raga Facciamo tutto Qui i silverfish Continuano a spawnare Anche se Li ammazzo Cioè non so come Non so neanche quanti Ne avrò ammazzati Sono tanti Sono solo questo Tanti Allora un altro spawner qua Però a me mi serve sapere Dov'è il blocco Perché Ok io ho fatto Tutta sta roba qua Perché essenzialmente Anzi Guardate l'utilizzo La fantastica torta Tu non devi neanche Impugnare la Cosciotta Che te la fa lei Allora Allora Vediamo di qua Cosa c'è Perché devo cercare Un buco Non è che devo spaccare Tutta l'ossidiana Vero No Che pa Uuuuh Chi è che l'ha vista L'avete vista Raga ve la faccio rivedere Riuscite a capire Guardate bene Se solo i più I più Attenti Riescano a capire Lì c'è una cesta Non so se voi l'avete vista Oppure no Io si Fortunatamente Vediamo cosa c'è signori Il blocco Il blocco C'è il blocco E questo a me Mi va più che bene Ora Io continuo a sentire mob Non so da dove arrivano Sinceramente Non riesco a capirlo Però io prendo E me ne vado a casa E piazzo il blocco Perché Questo episodio Mi ha davvero sfinito A parte il fatto Che al secondo piano C'erano un sacco di mob Non so perché Mi è sfuggito un po' Di spawner Madonna Quanti cazzo sono Minchia se ne sono sfuggiti No scherzo Non mi sono sfuggiti L'ho fatto Volontariamente Perché non c'ho voglia Di rompere L'ho detto vabbè Tanto non penso Che ne spawn Minchia raga Era pieno zeppo Già ne ho ammazzati un po' Però vi giuro Che era pieno zeppo E non mi ricordo Neanche più Dove è l'entrata Quindi la devo cercare Addio E a mai più raga Questo dungeon Vi giuro Che è stato davvero difficile Cioè Non perché C'erano tanti mob Ma come gestirlo Cioè Affrontarlo Dato che ci ho dedicato Due episodi Bene ragazzi Mentre vi mangio Una bellissima Rottenflash Che ovviamente Mi avvelena Vi ricordo di mettere Un bel mi piace Se questo episodio Ti vi è piaciuto Commentare Dicendomi In quale isola Devo andare Nel prossimo episodio Boh facciamo così Ditemelo voi Qui sotto Nei commenti Magari andiamo Boh Scrivetemelo voi Proprio vi do La libera scelta Iscrivetevi al mio canale Se ancora non l'avete fatto E noi ci vediamo domani Per un nuovo video Bella a tutti ragazzi Ah ve lo scusarmi Se non sono uscite Le sponsorizzazioni In questa settimana Però è anche nella scorsa Però ho avuto Diversi problemi Vi assicuro che In questi giorni usciranno Bella